Cortesemente chiedo, capisco la situazione, siete stati veramente educati finora, per il proseguo dei lavori dell'aula chiederei di permettere al sindaco Bucci di porre oggi il proprio intervento. Prego sindaco. State silenzio che è meglio, che non ti appiazzo negli altri residui. Rispetto, 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 rispetto. Prego sindaco, prego. Non posso parlare, aspettiamo un attimo. Prego sindaco. Buongiorno a tutti. Certo, per uno che ci ha passato tutto sto tempo non fa piacere sentire queste cose. Però capisco, capisco anche personalmente tutto il dolore e la preoccupazione. In genere parlo forte però, non si sente proprio. Ok, mi devo avvicinare. Lo devo fare, mi devo avvicinare. Non sono direzionato, parlo proprio forte. Allora, capisco la preoccupazione, capisco il risentimento, capisco tutto. State parlando con uno che ha dormito circa quattro ore per notte in questi giorni, quindi abbiamo cercato di lavorare. Se non ci credete, venite con me a parlarne come abbiamo fatto dopo, ok? Però adesso per favore lasciateci continuare. Io ci credete, venite con me. Il risultato tra quelle cose Dieci vedeno prima, vi alla prossima. Sì, vediamo nel burocco.